Presidente, grazie Commissario per essere qui stasera. Magari questo dibattito meritava un momento di maggiore affluenza, ma non è stato possibile evidentemente. Lei è un uomo politico di grande esperienza, di governo e ha visto quanto è accaduto quest'anno. Io faccio parte di un partito che ha deciso di non dire solo no, 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 come poteva benissimo scegliere di fare. Abbiamo fatto una scelta nel mio paese di far parte di un governo in un momento così difficile che ha dovuto prendere anche decisioni importanti, gravi, a volte conflittuali o che non ci hanno accontentato e non hanno del tutto rispettato magari le mie idee. Ma senza scomodare Voltaire, quello che è accaduto quest'anno è nato da un'esigenza molto concreta. Avevamo la necessità di uno strumento standard perché certe misure introdotte all'improvviso da alcuni Stati membri, penso al Brennero in Austria, quando le file di camion facevano sì che si dovesse rispondere a un documento in tedesco che certificasse la negatività di questi lavoratori. E quindi ci siamo assunti una responsabilità in tantissime forze politiche, quasi tutte qui, di adottare uno strumento che però, attenzione, conteneva al suo interno ben 15 riferimenti alla non discriminazione. E io mi domando, visto che spesso si parla del fatto se prevalga o no il diritto dell'Unione Europea rispetto a quello degli Stati nazionali, perché la Commissione Europea si è sincerata dietro un ah ma sì, ma poi gli Stati membri hanno preso altre strade. Però, se quello strumento aveva una durata limitata al 30 giugno di quest'anno, è proprio perché si tratta di uno strumento straordinario, nato in un momento straordinario, e che dobbiamo superare. Quindi io non sono d'accordo per il suo rinnovo, la situazione è molto migliorata. Questo non significa che dobbiamo interrompere la campagna vaccinale, questo ce lo dirà chi si occupa di questi aspetti. Ma in alcuni paesi abbiamo avuto la vera e propria creazione di livelli di cittadinanza differenti. Chi ha compiuto scelte diverse dalla mia? Perché deve avere di fatto un accesso ai diritti così limitato in paesi come il mio? Solo perché io ho tre vaccinazioni e loro no. Se abbiamo una scadenza, ripeto, c'è un motivo. Io credo che possiamo superare questo strumento. Strumenti coercitivi, come hanno applicato i Stati membri quest'anno, io credo in questa fase ci facciano perdere molto di più di quello che ci fa guadagnare uno strumento come avevamo ideato noi inizialmente. Grazie.